ciao a tutti e bentornati sul canale questa è una diecast review di un soggetto che io ho già recensito anche in italiano se non mi ricordo male un po di tempo fa era la prima uscita della t4 312 t4 del 79 macchina di gilles villeneuve jody schecter la prima edizione che è uscita con la collezione delle formula 1 le grandi formula 1 della centauria erano era la versione di schecter questa è la versione di villeneuve le differenze sono a parte vabbè il nome le decali il 12 invece dell'11 anche in posizioni differenti l'alettone che ha i bordi rossi invece l'altra aveva i bordi argento le ruote le ruote perché questa montava michelin loro che hanno fatto michelin da pioggia configurazione rain io non sono sicuro che quello sia il battistrada corretto delle delle gomme rain del 79 questo non lo so ripeto non conosco bene la macchina non lo so non mi sembra però visto così fa scena perché è una piccola differenza rispetto all'altro modello l'altro modello montava in quegli anni li usavano le doppie gomme quindi la macchina di schecter correva con con le gudier che è anche molto più scenografica di michelin come 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 scritte no questa correttamente perché era fatta così aveva il michelin piccolino fatto fatto di fianco e vabbè l'ho presa per il cuore perché ripeto è è una ferrari di gila anche se l'altra t4 ce l'ho già sono ferrari non bellissime perché il modello in sé la macchina vera dico era famosa per essere orrenda ma è stata una ferrari molto vincente è stata diciamo una delle l'ultima evoluzione delle 312 che venivano dagli anni 60 prima del passaggio all'era dei turbo con le 126 prima ck poi c2 e poi che poi sono le macchine che si sono portate via proprio gil e hanno ferito praticamente per sempre minando nella carriera anche pironi e quindi vabbè io l'ho trovato in edicola ripeto parliamo di modellini da 30 euro quindi non è non è che sia sta follia metterne un'altra anche se fisicamente un è quasi un doppione dell'altra no per me era molto più interessante la la 156 85 di alboretto modello molto interessante qui magari in quel caso anche se come sapete io vivo in svezia da un po non credo di prendere il doppione che loro sicuramente faranno nella versione di juanson quindi che piccolo stefan non me ne voglia ma della della sua 28 non mi interessa granché invece di questa 12 sì anche perché era la macchina con cui gil fece il gesto di cavalleria che lo rese famoso proprio di rallentare non mi ricordo in che gara però rallentò per far passare schecter e vincere senza problemi proprio da la seconda guida perché lui in questi anni qui era la seconda guida di ferrari cosa che invece non successa in 82 quando con pironi non si capirono e ci fu la rottura no tra gil e e di die e quindi questa è proprio la macchina della anche che rappresenta la cavalleria di questo pilota canadese che è entrato nel cuore di tutti i veri appassionati di automobilismo il modello è esattamente come l'altro quindi secondo me sono fatti benissimo per per quello che costano ripeto parliamo di modelli che valgono 30 euro quindi non troverete mai foto incisioni dettagli fini come antenne e cinture di sicurezza fatti in stoffa quelle robe lì no per 30 euro no considerate che un set di cinture costa lui da solo 20 euro quindi più spedizione tutto quindi non è non si può pretendere da questo modello qua quello che ha di ottimo è che rispetto all'altra e questo è un bel plus hanno una bella teca di plastica rigida perché quando riaprite le altre questa è quella la riduzione della mclaren di senna che hanno appena fatto con teca sana quasi tutte quelle che io vidi quando vennero fuori erano tutte saccagnate nella teca anche perché era la prima uscita quella che costava niente questa qua modello pilota 15 euro 15 euro imperdibile e quindi questo è quanto è stato fatto Grazie.